Mimì è una givetta che frascheggia con tutti un moscardino di viscontino, le palocchi di trilia e la sgannella e sopra la caviglia con un par promettente e un ginghier lo devo dir, non mi sempre sincer Ebbene no, non lo sogni, voglio guardare la mia bella tortura Ebbene no, non lo sogni, voglio guardare Ebbene no, non lo voglio guardare Mimì è tanto malata Mimì mi declina la povera vicina è condannata Mimì mi declina la povera 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 Stupenda lezione concerto Sono immagini un po' patinate ma poeticamente dal tempo Amici di Oggione siamo dentro la clinica di restauro diciamo Nello sposalizio della Vergine di Raffaello I professori restauratori stanno lavorando perché fra un mese e mezzo verrà riconsegnato completamente finito il restauro alla Pinacoteca di Brera E' una delle meraviglie di questo luogo che è molto emozionante da sindrome di Stendhal A ogni angolo c'è un capolavoro davanti al quale farsi cogliere dall'euforia Torniamo a Bohem Alla questa splendida Bohem di Bergonzi e Pobbe Bergonzi tra l'altro è appena stato premiato l'ennesima volta nel 2000 fu premiato come il miglior tenore verdiano del secolo Ma non è soltanto un tenore verdiano e si vede e si sente E' stato premiato a Cannes nell'ambito del Salone Internazionale del Mercato Discografico e delle Edizioni d'Arte Ma adesso andiamo a sentire questo lungo pezzo di questo meraviglioso duetto Oh mio sospetti Oh mio sospetti Oh mio sospetti Un genio amore Io davvero per Oh mio sospetti 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 la città non io non 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 no 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 oh la mel per la vita, ci lasceremo, ci lasceremo alla stagion dei fiumi, alla stagion dei fiumi, la stagion dei fiumi, alla 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 stagion dei fium Grazie a tutti. Grazie a tutti.